Benvenuto a Francisco Rodriguez d'Achille, Head of Institutional Business Development di Amiralgestion. Vogliamo innanzitutto fare una piccola escursa su come sta andando questo 2019, poi dato che siamo al Salone del Risparmio e il tema dell'anno è la sostenibilità, volevo capire voi come interpretate questa tematica. L'anno 2019 è un anno complesso perché l'investitore conservatore non ha trovato quella soluzione di investimento che si adatta pienamente al suo profilo. Allora noi lo stiamo interpretando come un anno di transizione perché è vero che stiamo vedendo una ralentizzazione in generale nel mondo, stiamo approcciando in maniera molto positiva i mercati asiatici per i nostri portafogli globali per esempio, giustamente nella ricerca di diversificazioni e mercati di nicchia crediamo che sia molto importante poter essere presenti su mercati più inefficienti. Per cui crediamo che sia un anno complesso con delle opportunità comunque perché quegli asset manager che sappiano approfittare delle sue proprie capacità potranno generare alfa come noi ce l'aspettiamo. La tematica del ESG è una tematica che per noi è prioritaria anche, noi abbiamo aggiunto oltre 28 fattori qualitativi nella valutazione delle società che facciamo all'interno dei nostri portafogli questi 28 fattori qualitativi molti di loro hanno a che fare con il compromesso sociale, con il trattamento dei capitali, quindi in realtà è una tematica rilevante dove bisogna essere anche molto selettivo perché è vero che alcuni stanno facendo meglio che altri i doveri, quindi bisogna essere attenti anche a questo particolare.